Italia, Europa, le interviste del Corriere. Siamo in diretta su Corriere.it, quindi intanto saluto e ringrazio tutte le italiane e tutti gli italiani che ci seguono. Vedrete che poi questa nostra intervista sarà anche riassunta per il giornale Cartaceo e andremo avanti così per i prossimi giorni di qui all'8-9 giugno quando l'Italia e gli altri paesi europei sono chiamati a decidere i prossimi europarlamentari. Quindi si rinnova il Parlamento europeo di Strasburgo e siamo chiamati a votare naturalmente su temi soprattutto europei ma noi sappiamo che poi inevitabilmente queste elezioni diventano anche un termometro sulla politica nazionale per darci un po' qual è l'umore, la temperatura appunto del nostro paese. Noi siamo oggi con Riccardo Molinari che ringraziamo molto, benvenuto onorevole. Grazie per l'invito. Come sapete Riccardo Molinari è il presidente del gruppo della Lega alla Camera dei Deputati e anche segretario regionale del Piemonte. Ecco nei prossimi giorni noi avremo domani i segretari Bonelli e Fratoianni per Alleanza Verdi e Sinistra e così via in un programma che poi vi racconteremo via via attraverso il nostro sito, i nostri social e attraverso il Corriere Cartaceo. Abbiamo deciso, forti dell'esperienza delle precedenti politiche, di rinnovare questo metodo delle domande aperte ai lettori, cioè sono le nostre lettrici e i nostri lettori che ci scrivono all'indirizzo mail domande.elezioni.chiocciolacoriere.it e noi raccogliamo le loro richieste, le loro domande e poi le rivolgiamo ai politici e ai leader delle varie forze politiche perché ci sembra giusto che appunto siano lettrici e lettori a dare la loro opinione e a rivolgere le loro domande. Ci sembra un modo giusto per usare anche la piattaforma web che ci consente un dialogo diretto e immediato. E allora onorevole Molinari io parto subito dalla prima domanda che le rivolge il lettore Simone Zenobi che si chiede ma cosa farà la Lega in Europa per provare a risolvere la guerra in Ucraina? Qual è la strategia del partito? E la Lega sarà capace di fermare l'invio delle armi? Beh allora il premesso che la Lega ha sempre votato dall'inizio del conflitto in Ucraina tutti i provvedimenti di sostegno a quel paese sia dal punto di vista umanitario che anche dal punto di vista militare. Penso che ci sia una coerenza dimostrata insomma dai voti parlamentari sia durante la nostra presenza nel governo Draghi che oggi nel governo Meloni. Stessa cosa diciamo che alcuni partiti che ci accusano di essere filorussi o di non parteggiare per Chieve non possono dire perché ricordo che solo qualche mese fa a gennaio quando si è votata la risoluzione per l'invio di nuove armi il Partito Democratico si è spaccato e il Movimento 5 Stelle addirittura ha votato contro. Quindi noi riteniamo che il sostegno militare sia necessario per poter arrivare a un tavolo di pace. Se l'Occidente, se la comunità internazionale non avesse aiutato Chieve in questi mesi probabilmente Chieve sarebbe capitolata in poche settimane. Il fatto che si è creata diciamo una sorta di resistenza e quindi un pareggio delle posizioni sul campo ci permette di avviare dei tavoli di pace. È chiaro che noi pensiamo che il conflitto vada interrotto per tanti motivi. Non siamo d'accordo con la posizione che ha espresso Stoltenberg qualche giorno fa, cioè di togliere il divieto di utilizzo offensivo delle armi che l'Italia ha dato all'Ucraina e che in generale la comunità internazionale ha dato all'Ucraina perché ci muoviamo su un confine molto sottile. Finché un paese si difende è per il diritto internazionale il dovere degli altri paesi aiutarlo. Nel momento in cui dovesse esserci una risposta col fuoco sul territorio russo si rischierebbe di andare in una fattispecie diversa, quindi rischierebbe di essere interpretabile soprattutto da parte russa come una guerra di attacco e questo avrebbe delle conseguenze pesanti perché potrebbe rischiare di portare l'Italia e gli altri paesi all'interno del conflitto, cosa che noi non vogliamo. Quindi certamente continuare a sostenere Kiev ma lavorare con le diplomazie perché ci arrivi a un tavolo di trattativa che fermi il conflitto e stabilizzi quell'area dell'Europa. Angelo Tirelli ci chiede, le chiede, cosa ne pensa della costituzione di un esercito di difesa europeo con gli stessi armamenti per tutti? Guardi, io penso che alla lunga l'idea di Europa che abbiamo, l'Europa deve in qualche modo su grandi questioni, la politica estera, la difesa, trovare delle intese. È chiaro che farlo oggi però avrebbe poco senso perché oggi purtroppo riteniamo che le politiche della Commissione europea abbiano fallito. Se c'è una distanza sempre maggiore da parte degli elettori dei vari paesi nei confronti delle istituzioni europee è perché le politiche dal nostro punto di vista, portate avanti soprattutto dai socialisti a livello europeo, hanno allontanato la popolazione, il popolo, da quelle che sono le posizioni europee e quindi oggi noi stiamo vivendo in Europa un dirigismo poco europeo e poco liberale sulle politiche economiche. Pensiamo ad esempio il tema del blocco della produzione dei motori endotermici dal 2035. Questa è una contraddizione palese perché se l'Europa si basa sulla tutela del libero mercato, della libera circolazione dei mezzi, dei capitali e delle imprese e poi però su una questione industriale come questa vuole imporre un cambio radicale di produzione smantellando un settore industriale che è fondamentale per l'Italia e per la Germania in particolare, dove siamo eccellenza a livello mondiale, l'Europa è diventata qualcos'altro. Noi vogliamo cambiare questo tipo di approccio, pensiamo che sulle grandi questioni come la difesa, la politica estera, la regolamentazione del mercato, la tutela del mercato comune europeo rispetto alla concorrenza di quei paesi come la Cina, tanto per dirne uno, che non rispettano i nostri standard sociali e ambientali debba essere gestita a livello europeo e altre questioni invece di cui oggi si occupa l'Europa invece dovrebbero essere gestite a livello nazionale. Quindi per il futuro certamente può essere un obiettivo quello di creare una difesa comune europea, un esercito comune, oggi non vedo i presupposti per quella che è la linea della Commissione. Allora, la lettrice Maria Rosa Casario Casari, mi perdoni se non conosco l'accento, va giù in modo molto dritto e le chiede ma al di sotto di quale soglia ci potrebbe essere barra ci sarà un problema politico di tenuta per la leadership di Matteo Salvini? Questo è un tema di cui si parla molto sui giornali e sulle televisioni e diciamo si parla poco all'interno del partito, nel senso che nessuno ha messo in discussione il segretario, il dibattito che c'è all'interno è un dibattito di posizionamento politico, è un dibattito sulla linea politica che il partito deve seguire, quindi non c'è il tema dell'asticella del risultato. È chiaro che l'obiettivo che ci si è dati come Lega è quello di migliorare il risultato delle elezioni politiche. Alle elezioni politiche di un anno e mezzo fa la Lega ha sfiorato il 9%, quindi per quanto ci riguarda tutto quello che è sopra questo risultato è comunque un implemento, ma non esiste il tema della soglia oltre al quale si mette in discussione il segretario o meno. Nel partito c'è un dibattito su quella che è la linea politica e su questo ci confronteremo nei prossimi mesi, su quello che deve essere il ruolo e il posizionamento della Lega sia a livello europeo che a livello nazionale. Onorevole, c'è questo derby europeo tra Tagliani e Salvini, tra Forza Italia e la Lega? È normale che ci sia perché le elezioni europee sono elezioni proporzionali, quindi sono elezioni dove ogni singolo partito corre per sé, non ci sono le coalizioni e quindi è normale che in queste settimane ogni partito punti a distinguersi e a mettere in mostra ai cittadini italiani quali sono le sue peculiarità. Quindi mi pare una cosa assolutamente normale, però le dirò, non vedo questi grandi sgomitamenti se solo pensiamo a cinque anni fa. Cinque anni fa la Lega era nel governo con il Movimento 5 Stelle e ricordo che per sei mesi noi avevamo i nostri alleati di governo che sparavano a zero sul partito Lega con cui stavano governando. Oggi non c'è niente di tutto questo. Oggi ci sono visioni diverse, ad esempio sul futuro della Commissione europea. Io l'ho detto prima, noi pensiamo che le politiche debbano cambiare in modo radicale e pensiamo che possono cambiare solo estromettendo i socialisti dalla guida della Commissione europea e vogliamo lavorare perché il modello del centrodestra sia ripreso anche a livello europeo. Quindi vorremmo un dialogo tra tutti i gruppi parlamentari europei del centrodestra. Tajani, che è un esponente importante del Partito Popolare, che però ha fatto parte della maggioranza della Commissione europea in questi anni, Ursula von der Leyen, lo ricordiamo, è una presidente di Commissione espressione dei popolari europei e che quindi è stato alla guida dell'Europa insieme ai socialisti, chiaramente difende la posizione invece di un rinnovo di questo tipo di accordo per escludere gli altri partiti del centrodestra. Su questo ci stiamo confrontando, sono due posizioni diverse, saranno poi gli italiani a giudicare se sono o meno contenti delle politiche che ha fatto questa Commissione o no. Damiano Clerici, da leghista e la Lega a tanti sindaci, è preoccupato da questa operazione di spending review che porta tagli ai comuni italiani? Beh, sicuramente il nuovo patto di stabilità qualche problema lo porrà, questo il vostro lettore ha perfettamente ragione. Per ora, come è noto, è stato sottoscritto l'accordo sul nuovo patto di stabilità europeo che vincono agli Stati. Il Ministro Giorgetti penso che nelle difficoltà abbia fatto un lavoro eccezionale perché rispetto ai falchi europei del rigore, quindi chi voleva tornare subito alle vecchie regole o addirittura aggravarle imponendo non solo il deficit PIL al 3% ma anche un obbligo di riduzione del debito dei paesi indebitati come l'Italia, perché paesi che hanno un rapporto debito PIL sopra il 60% siamo praticamente quasi tutti i paesi europei, sicuramente l'Italia c'è dentro. Se l'avessimo fatto da subito sarebbe stato molto più pesante. Il Ministro Giorgetti ha ottenuto un periodo di sette anni di transizione in cui le regole si possono ammorbidire anche perché c'è l'impegno a spendere i fondi del PNRR e chiaramente nella trattativa europea bisognerà capire come far ricadere questi obblighi nuovi sulla riduzione della spesa a livello di enti territoriali. Certamente noi lavoreremo, visto che siamo quelli che il patto di stabilità per i comuni l'hanno superato nel 2018, i sindaci lo sanno molto bene, lavoreremo perché non ci sia un impatto sulle amministrazioni, in particolare le amministrazioni virtuose che sono quelle che hanno un avanzo di amministrazione. Dovremo capire come declinarlo ma il nostro obiettivo sarà, come sempre, quello di cercare di tutelare le autonomie locali e non imporre dei tagli drastici della spesa. La lettrice Giuseppina Fratus in realtà mi ruba il mestiere perché questa domanda ero pronta a farla io e le chiede ma il partito sembra che non collabori tanto alla campagna di Roberto Vannacci. Lei cosa ne pensa? Può essere un problema o un valore aggiunto per la Lega? Guardi, anche su questo è chiaro che abbiamo letto ogni tipo di polemica in queste settimane solo per delle esternazioni ovvie che vari dirigenti del partito, io compreso, abbiamo fatto. Roberto Vannacci ha già rivendicato più volte che non è un membro della Lega. In teoria il suo valore aggiunto è proprio quello di essere un indipendente e di andare a cercare il consenso elettorale in una parte della società, della popolazione che magari era distante dalla politica o certamente non votava la Lega e quindi è chiaro che il partito supporta quelli che sono i candidati del partito, cioè i candidati della Lega. Noi l'altra volta all'Europa abbiamo ottenuto un risultato straordinario, il 34%, abbiamo eletto tantissimi parlamentari europei, quindi abbiamo tanti parlamentari europei uscenti, più nuovi candidati che hanno una lunga storia di militanza nel partito e che hanno lavorato bene nelle istituzioni europee che si stanno battendo in campagna elettorale. Penso sia assolutamente normale che la struttura del partito porti quelli che sono i candidati del partito e un candidato indipendente che ha la Lega come hanno tutti gli altri partiti, perché anche nel Partito Democratico ci sono candidati intellettuali, illustri giornalisti, in alleanza Verdi e Sinistra si è voluto candidare Ilaria Salis perché rappresenta una posizione che è gradita quella parte di elettorato ma certamente non è un membro del partito, quindi penso sia assolutamente una polemica sterile. Vannacci deve portare valore aggiunto con la sua struttura e col suo consenso, la Lega lavora per i candidati militanti e rappresentanti nelle istituzioni della Lega. Autonomia. L'autonomia è il cavallo di battaglia dei ministri leghisti, scrive Francesco Zanaboni. Ma cosa ne pensa delle critiche della CEI al provvedimento, la CEI conferenza episcopale italiana, cioè i vescovi italiani? Come si comporta un partito come la Lega in situazioni di questo tipo? Beh insomma certamente con tutto il rispetto per tutte le critiche non solo della CEI ma anche diciamo di altri che sono contrari a questo disegno di legge, chiaramente non cambiamo idea, anche perché la Lega nasce, la Lega Lombarda nasce 40 anni fa, la Lega Nord nasce nel 91, quindi insomma è da un po' di tempo che siamo su piazza e l'obiettivo della Lega è sempre stato quello di avvicinare il livello decisionale ai territori e quindi l'obiettivo è quello di trasformare un giorno l'Italia in uno Stato federale. Questo è tutt'altro perché l'autonomia differenziata non è il federalismo, questa norma è l'attuazione di una riforma costituzionale che è già stata approvata nel 2001, questo va ricordato, il disegno di legge Calderoli nasce proprio per rispondere alle critiche di chi era preoccupato del fatto che la Costituzione non prevedesse un iter parlamentare per approvare le intese tra Stato e Regione, intesa tra Stato e Regione che sono in Costituzione dal 2001 e che sono state ratificate col voto popolare degli italiani, quando il referendum costituzionale è passato. Questo disegno di legge è stato scritto proprio sulla richiesta delle opposizioni prevede un iter parlamentare per approvare le intese richiedendo una maggioranza assoluta quindi le intese dovranno essere votate da 50% più uno dei componenti di Camera e Senato e prevede soprattutto la definizione dei LEP, quello che i governatori soprattutto delle regioni del Mezzogiorno chiedevano come precondizione per attuare l'autonomia. Oggi c'è un testo di legge che prevede che le funzioni fondamentali sono calcolate, messe nero su bianco e si debba soprattutto calcolare qual è il costo delle funzioni e dei servizi che vanno garantite in tutta Italia. Quindi è un disegno di legge che va esattamente nella direzione di aumentare i diritti e le prestazioni, non di ridurle. E poi ricordo che l'autonomia è facoltativa, cioè saranno le regioni a decidere quali competenze chiedere e quindi di conseguenza quali risorse avere. Le regioni che ritengono che le cose vadano bene così e che debba essere lo Stato a continuare ad occuparsi di determinate materie, basta che non chiedano l'autonomia. Fa sorridere però che alcuni governatori, penso a Bonaccini, penso a De Luca, penso a Emiliano, che sono stati i primi a chiedere l'autonomia, in particolare l'Emilia Romagna, ma anche la campagna e la Puglia, oggi invece che siamo a un passo da realizzarla facciano la polemica contro l'autonomia. Capisco la campagna elettorale, ma insomma le preoccupazioni che presentano dal mio punto di vista sono assolutamente prive di fondamento. C'è uno scambio politico? Tu dai un po' di premierato a me, io do un po' di autonomia a te, cioè il premierato che è sospinto, come sappiamo, dalla Presidente del Consiglio e da Fratelli d'Italia e l'autonomia invece che dà sempre la battaglia della Lega? Beh, certamente tutte e due le riforme, a dire il vero il premierato no, perché nel programma del centrodestra non c'era il premierato ma c'era il presidenzialismo, mentre invece l'autonomia era nero su bianco nel programma del centrodestra, quindi per governare con la Lega è evidente che bisogna accettare l'autonomia, perché l'ho detto prima, è la nostra ragione sociale, penso sia la riforma più identitaria e il punto principale che la Lega pone per questi cinque anni di governo. Quindi c'è stato un accordo precedente, è chiaro che ogni partito, già avevamo detto prima, siamo in campagna elettorale, ogni partito deve in qualche modo far vedere che porta avanti le istanze che più gli stanno a cuore, la riforma del premierato che ha sostituito il presidenzialismo sta a cuore a Fratelli d'Italia, quindi Fratelli d'Italia ha lavorato perché al Senato si andasse avanti per una prima lettura e l'autonomia voglio ricordare che è già stata approvata in prima lettura al Senato e adesso è calendarizzata alla Camera, verrà votata dopo il voto delle europee e ricordo che l'autonomia è una legge ordinaria, perché l'ho spiegato prima, la Costituzione è già stata cambiata, questa legge attua la Costituzione, quindi sono ITER con tempi molto diversi, l'autonomia verrà approvata prima del presidenzialismo e c'è poi la riforma della giustizia, che è un'altra riforma molto importante che è una bandiera di Forza Italia, ma che comunque fa parte del programma del centro-destra e verrà portata avanti. Allora, ascoltiamo Luca Amico che le chiede, ma se Giorgia Meloni e Marine Le Pen trovano un accordo dopo il voto europeo, la Lega sembra tagliata fuori dal centro delle alleanze, non rischiate in questo modo? Beh, la Le Pen, voglio ricordare che fa parte oggi del gruppo Identità e Democrazia, che è un po' parlamentare di cui fa parte la Lega, se Giorgia Meloni ha cambiato posizione e vuole anche lei ragionare per mettere insieme tutti i partiti di centro-destra, non può che far piacere, perché in questo modo sta seguendo quella che è la linea che Salvini e la Lega hanno tracciato da mesi, noi da mesi dobbiamo lavorare per portare i popolari, quindi il centro-destra moderato, diciamo europeo, a dialogare con gli altri partiti di centro-destra, se ci fosse un'intesa tra conservatori, Identità e Democrazia, nell'ottica di avere più massa critica per dialogare con i popolari, se andrebbe nella direzione giusta. Poi, altro discorso è fare un gruppo unico, questo mi pare che siamo un po' avanti nei ragionamenti. Aggiungo che non dovrebbe scandalizzare il fatto che la Meloni parli con la Le Pen, perché tutti i sondaggi dicono che all'interno di Identità e Democrazia il partito della Le Pen sarà probabilmente quello che avrà maggior consenso, quindi sarà quello che avrà la delegazione di parlamentari europei più numerosa. Ma se si va in quella direzione, è la direzione che abbiamo sempre auspicato, quindi anzi, non è un problema, ma è un successo politico per quanto ci riguarda. Visto che proprio in un'intervista al Corriere della Sera il leader popolare Weber ha rimproverato la Lega dicendo che ha aiutato troppo, in una lunga fase politica, l'estrema destra tedesca. Guardi, io non provo nessuna simpatia verso l'estrema destra in generale, tantomeno verso l'estrema destra tedesca. Il problema dei gruppi a livello europeo è che si mettono insieme anche partiti che hanno storie e a volte valori molto differenti. Nel gruppo Identità e Democrazia ci sono partiti che contestano radicalmente le politiche di questa Commissione europea, soprattutto la deriva ideologica Green, e quindi su questo sono d'accordo con la Lega, che vogliono un cambiamento, una commissione senza i socialisti, ma è certo che all'interno ci sono partiti che hanno valori molto diversi. Ma la stessa Le Pen, che è un'alleata storica della Lega, è chiaro che ha delle contraddizioni rispetto a noi, lo dicevo prima, noi siamo il partito delle autonomie, del territorio, del federalismo, la Le Pen ha una tradizione centralista di matrice francese molto forte, addirittura contraria a quella poca autonomia che oggi in Francia c'è, e su questo abbiamo posizioni divergenti. Ma in Europa non si dialoga dei temi nazionali, in Europa si dialoga delle posizioni della Commissione, e quindi si mettono insieme dei gruppi che in qualche modo abbiano una visione più o meno simile sulle politiche europee. AFD penso che abbia superato il limite, diciamo che le ultime dichiarazioni sulle SS sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso, voglio ricordare che però già l'evento organizzato dalla Lega a Roma a marzo, se non sbaglio qualche mese fa, AFD non era stata invitata. Quindi diciamo che una presa di distanze da parte nostra verso certi estremismi era già in atto, e io accolgo con grande favore il fatto che la Le Pen e Salvini abbiano deciso di espellere dal nostro gruppo quel partito, perché ha delle posizioni che dal punto di vista valoriale sono assolutamente inconciliabili con noi. Ascoltiamo questa domanda molto interessante della lettrice Lisa Mezzetti. La mia impressione è che la Lega stia facendo una campagna da partito di destra, basata un po' su o con noi o con loro, dalla maternità surrogata, all'Islam, all'immigrazione. Non crede che ci sia il rischio di aver perso il carattere pragmatico della prima Lega, quella delle origini, in nome di una ideologia? Questo è uno dei temi di cui parlavo prima, quando parlavo che il tema non è il leader, ma il tema è il posizionamento politico. Su questo chiaramente c'è un dibattito interno, è chiaro che magari alcune posizioni più radicali sono anche quelle che fanno più notizia, e quindi di cui si parla di più. Io le posso garantire che sono impegnato nella campagna elettorale ormai da febbraio, perché siamo partiti lunghi, poi come ricordava prima io sono anche segretario in Piemonte, in Piemonte ci sono anche le regionali, quindi diciamo un doppio lavoro e le assicuro che sono settimane che noi facciamo dibattiti, incontri sull'autonomia, sulle proposte che ha fatto la Lega, che ha approvato la Lega in Parlamento, sulle tante cose fatte dal punto di vista infrastrutturale, sociale, sulla sanità. È chiaro che parlare ad esempio delle misure fatte per aumentare le buste paga dei medici fa meno notizie rispetto a un manifesto contro la maternità surrogata, però questi sono i meccanismi della comunicazione, è un circolo che si autoalimenta, nel senso che più polemiche vengono fatte su alcune posizioni di un partito, più quelle posizioni che magari sono più radicali emergono. E il lavoro invece appunto di serietà, di pragmatismo, di portare risultati sui territori, passa meno diciamo sui media nazionali, ma sui territori le assicuro che è molto riconosciuto. Allora, intanto benissimo la brevità delle sue risposte, perché rispetto ai tempi appunto televisivi e del digitale. L'Europa green, l'Europa verde, la commissione uscente, ha insistito molto su questo tema che coinvolge anche tanto le nuove generazioni che sono sensibili all'argomento. In questo la Lega non rischia di perdere un po' il consenso di tante ragazze e tanti ragazzi che al di là delle ideologie invece sono molto interessati a una sensibilità un po' più legata all'ambiente, al futuro del pianeta. Certo, questo è un rischio perché nella semplificazione anche qua chiunque in qualche modo critichi una certa deriva green passa come contro l'ambiente. E noi invece dobbiamo cercare di far ragionare, di parlare con i giovani e spiegargli il perché delle nostre posizioni. Vi faccio un esempio, parlavamo prima dell'auto tradizionale, no? L'Europa oggi contribuisce alle emissioni di CO2 per il 7% a livello globale. Quindi chi oggi emette CO2, visto che l'Europa è già il continente che ha le produzioni più sostenibili, perché l'Europa, pensiamo sul riciclo, il lavoro che è stato fatto in Italia già dagli anni 90, siamo il miglior paese del mondo dal punto di vista del riciclo. Quindi non è che non c'è una sensibilità ecologica e ambientalista nel nostro paese, tantomeno che non ci sia nella Lega. Però vede, la questione delle auto, pensare che sostituire il motore tradizionale con le auto elettriche aiuti l'ambiente è semplicemente sbagliato, perché quelle auto elettriche vengono prodotte per lo più in Cina, la Cina è il paese che inquina più al mondo e soprattutto il risultato quale sarebbe? Mettere per strada 75 mila lavoratori in Italia, questo è un dato che dà sia Confindustria che la CGL, quindi stranamente c'è una volta tanto un'unità di visione, smantellare un know-how, una filiera industriale che ha fatto grande l'Italia e che soprattutto nella mia regione, in Piemonte, è la colonna portante dell'economia per favorire un concorrente, cioè la Cina, che inquina di più, che produce in modo non sostenibile e che non tutela i diritti dei lavoratori. E aggiungo, l'elettricità come la produciamo? Visto che gli ambientalisti sono anche contro il nucleare, l'elettricità oggi in Italia e nel grosso del mondo si produce bruciando materiale fossile, si produce bruciando il gas, si produce addirittura bruciando il carbone, in Cina ma anche in Germania hanno riaperto le centrali a carbone e quindi questo surplus di richiesta di elettricità non farà altro che in generale ancora più CO2, quindi questo è un ragionamento ambientalista, nel senso che noi riteniamo che questa scelta danneggi il mercato e l'industria europea e non migliori l'ambiente, ad esempio invece lavorare come sta facendo Eni, come stanno facendo molti ricercatori italiani, su fonti diverse a basse emissioni, i diesel ecologici ad esempio, che non hanno emissioni ma garantiscono comunque la filiera industriale, l'idrogeno su cui stiamo facendo grandi passi avanti come Italia, vuol dire lavorare per ridurre le emissioni senza distruggere l'industria europea, senza favorire i nostri concorrenti. Sono temi complessi ma vanno fatti capire perché non si può semplificare tutto in Greta Thunberg, si Greta Thunberg no. Bene, tempi perfetti, quindi ringrazio molto l'onorevole Riccardo Molinari, gli auguro buon lavoro, noi allora ci rivediamo con la vice direttrice Fiorenza Sarzanini e con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni domani, le nostre interviste andranno avanti, tendenzialmente alle ore 12 anche nei prossimi giorni, le domande ai leader che voi stessi lettori, voi stessi elettrici, rivolgete attraverso di noi, elezioni europee 8-9 giugno come sappiamo, il nostro indirizzo mail domande.elezioni chiocciolacorriere.it, buona giornata e grazie ancora.